Jessica Salerno, io sono qui oggi a questa conferenza stampa in veste di semplice cittadina che sta sposando questa causa, quindi questa iniziativa, la voglia di fare bene, di lavorare bene tutti insieme per realizzare un evento comune che abbia appunto come obiettivo la solidarietà e quindi il raggiungere l'unione sul territorio. Mi piace pensare a Mister Bianco Correper come un evento unico nel suo genere che permette di far convivere insieme persone diverse provenienti da mondi diversi e magari con passati appunto con trascorsi completamente dissimili che per oggi si uniscono insieme indipendentemente dall'orientamento politico per lavorare appunto a favore del territorio e quindi a favore di Mister Bianco. Quindi come sempre mi piace pensare che se si vuole fare bene basta mettersi insieme, metterci un po' di buona volontà per realizzare progetti concreti e quello che stiamo cercando di fare appunto con Mister Bianco Correper è realizzare concretamente un lavoro di solidarietà. Quindi l'invito che vi posso fare è quello di venire tutti il 3 giugno in piazza Mercato a Lineri per prendere parte appunto questo evento che ci coinvolge tutti quanti e può essere un ottimo momento di aggregazione familiare e conviviale. Cristina Buffa, io sono presente nella Mister Bianco Correper come Rotary e Club Rotary è una grande associazione a livello internazionale che si occupa proprio di aiuto alle persone più deboli, al bisogno proprio dell'umanità. A Mister Bianco ci ritroviamo presenti proprio per aiutare questo grande obiettivo solidale che è quello di questa raccolta fondi per queste due parrocchie che abbiamo intenzione di promuovere come prima occasione di solidarietà. Il Rotary e Club è presente con la raccolta fondi per il Mister Bianco Correper, si impegnerà attivamente con i propri soci a rendere tutto in maniera fattibile e quindi è orgogliosa di partecipare a questo grande evento insieme a tante associazioni perché effettivamente è risultato una grande aggregazione, un grande obiettivo. Grazie Grazie Grazie